Sì, saranno tre allenamenti importanti, col sette bello, anche perché loro iniziano con i ragazzi un po' più giovani la fase iniziale della preparazione, noi andiamo là a limare gli ultimi dettagli, a guardare un po' le ultime cose, quello che ci manca per arrivare al 100% a questa Final Four. Secondo me l'Olimpiakos è la squadra forse più completa della Champions League, ha due ottimi centri, ha un mancino fortissimo, ha difensori fortissimi, gente che riparte, gente che tira. Secondo me la chiave della partita è, oltre alla nostra difesa, la nostra concentrazione, dobbiamo mantenere la soglia della concentrazione altissima per quattro tempi perché con loro non ti puoi distrarre un attimo, abbiamo avuto con loro partite quest'anno soprattutto a Atene dove siamo andati sotto, sopra, sotto, sopra, è una giostra quando giochi con loro e c'è bisogno di tutta l'attenzione possibile in fase difensiva soprattutto. Dopo la finale di Scudetto abbiamo fatto una settimana di lavoro per preparare le finali Champions League, abbiamo lavorato sulla parte fisica, in palestra, in piscina e come sempre ci faremo trovare pronti grazie allo staff tecnico per le finali. Con l'Olimpiakos sono state due partite molto belle nei gironi, equilibrate, è una semifinale Champions League quindi sarà una partita bellissima, emozionante, aspettiamo veramente una battaglia. La prima partita che abbiamo giocato a Chiavari non possiamo prenderla in considerazione perché comunque sono passati venti e tanti mesi e anche la nostra natura ci ha detto che la reputa come una partita della passata stagione e veramente sono passati tantissimi mesi, il nostro gioco è migliorato, abbiamo fatto due competizioni internazionali con la nazionale, abbiamo fatto una fine di Coppa Italia, una fine di Scudetto, quindi stiamo parlando del passato e sarà una partita competente diversa. No, sarebbe sicuramente bello poter entrare nei 13 che giocheranno la semifinale, non è una scelta che aspetta a me, però ovviamente mi preparo come tutti gli altri per dare il massimo e il sogno di ogni te a giocare queste partite.